Ciao! Ciao Anna! Ciao! Come è stata la befinatura oggi? Mi piace! Molto! Mi fai un giro? Un giro eh! Wow che belli! Dai cosa pensi fare stasera? Vado dalla minchia! Che ora tiri? Ma due, non lo so! Le due? Eh si! Poi il tuo padre deve venire a prendere ancora oggi! Per il quattro cosa hai preparato? Pizzata! Una bella pizzata? Perfetto allora in bocca al lupo e auguri! Ciao! Ciao!